Musica Quando uno si lamenta della sciolta E io non mi volessi lamentare Maronna mia che stai su per i porti Fa stai sempre a cento milioni E mo hai girato tutti le porti E io non mi volessi lamentare Pensare solo solo è pensare E io non mi volessi lamentare E io non mi volessi lamentare E io non mi volessi lamentare Buonasera a tutti e benvenuti Noi siamo gli Ankara Buonasera grazie Allora spiega un pochettino compare gli Ankara cosa significa Ankara non è Ankara Non siamo in Turchia No 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 Anime che ascoltano Rossano o Trova Fate capire Anime che ascoltano Rossano Visto che siamo freschi freschi Facciamo un pezzo nostro che si chiama Gente Rupaise Dedicato alla città di Rossano Stasera la dedichiamo a Cantenello va bene Questo devi farlo tu compare perché sei Ok va bene Allora vi chiedo una cortesia già dall'inizio Prima di iniziare a suonare Noi suoniamo voi avete uno strumento che sono le mani Quindi con le mani a tempo vi chiedo la cortesia di andare a tempo Vi spiego perché Perché adesso iniziamo e vi faccio vedere Compare vai Vai Allora Con le mani Grazie Grazie che fatti andate con le mani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti